Lego Ninjago Movie dove accadono tipo due cose in tutto il film e sono noiose yeee ok quindi il tanto gioco che volevo, ovvero Lego Ninjago di videogame, lo comprerò? lo comprerò? no perché se the Lego Movie di videogame mi ha annoiato a morte ed era il gioco Lego di un film pieno di scene pieno di cose divertenti e la trasposizione Lego appunto è stata comunque noiosa ho detto comunque sette volte lo so figuriamoci di Lego Ninjago Movie un intero gioco su un solo film nel quale non è successo una mazza ok non oso pensare che cose si siano dovuti inventare per creare dei livelli quindi figuriamoci è un gioco che te aspettavo di più di Lego Marvel decisamente di più di Lego Marvel ma mi è sceso tantissimo dopo aver visto il film che mi ha deluso abbastanza perché con tanto potenziale di... cioè tanti bei personaggi tante storie che potevano raccontare niente ha sprecato un'opportunità incredibile peccato Lego Marvel Super Heroes 2 oh quanto ho citato ormai in questo video non mi interessa proprio c'è proprio zero sapete quando una cosa non vi interessa ma neanche distrisce ecco questo gioco questo gioco non c'ha nulla che mi voglia proprio mi solletica per dire si voglio giocarlo dai cioè l'unica cosa che ho visto essere incredibilmente buona è la creazione dei personaggi cioè il creatore personaggi continuate così assolutamente cioè il prossimo gioco Lego che mi stuzzicherà spero abbia tal creatore dei personaggi perché meriterebbe davvero essere approfondito eh ma così guarda i DLC e allora no perché molte persone mi hanno detto eh però guarda i DLC così magari ti viene voglia di comprarlo a parte che questo è un discorso che come dire mi fa piangere dentro ma a parte questo uscirà il film di Black Panther quindi usciranno i contenuti di Black Panther uscirà Avengers Spirit War quindi usciranno i contenuti uscirà ok ok poi ci sono anche altre cose tipo questi qua sono gli unici DLC che hanno un senso perché i film devono ancora uscire quindi arriveranno in futuro è ok ma c'erano anche i DLC tipo classici guardiani della galassia ma mettoni nel gioco base cioè vuoi farmi tutto il tema guardiani della galassia e poi non mi metti neanche nel gioco base la versione dei fumetti di guardiani della galassia ma io ti picchio io ti picchio Lego Worlds Lego Worlds Lego Dimensions allora Lego Worlds proprio mi dice non so più ci penso più non deve esistere ma ok Lego Dimensions guarda si vocifera che l'abbiano cancellato spero di sì perché sono stato molto fortunato davvero perché non è uscito su PC quindi non mi sono dovuto sentire in dovere di giocarlo perché proprio no cioè una volta che puoi fare un gioco bello no devi per forza fare tutto ciò che c'è di male nei giochi Lego in un gioco e soprattutto i personaggi li devi comprare con i soldi veri e mica 2 euro 15 ma va via quindi poi Star Wars Battlefront 2 sono questi qua i giochi che mi chiedete ogni volta giustamente ma Star Wars Battlefront 2 per quanto sia un gioco che in realtà attendo abbastanza sta passando un periodo incredibile di confusione per quanto riguarda Alfa, Beta IE Access e Darth Vener 40 ore prima di bloccarlo che poi in realtà per me secondo i miei calcoli erano 60 ore ma vabbè adesso hanno tolto i cristalli quindi non c'è il pay to win però lo inseriamo di nuovo in futuro non si sa come non si capisce niente quindi ma di tanto non c'è i soldi quindi di sicuro non l'avrei comprato adesso ma a maggior ragione mi stavano mettendo dei dubbi atroci perché c'è una confusione nell'aria quindi non so probabilmente come minimo ci ripenserò al mio compleanno che sarà febbraio ma prima di allora dubito di comprarlo perché no quindi che cosa porterò? porterò altri giochi Lego? ovvio ovvio quelli che abbiamo finito da secoli in qualche live barra video barra live cioè ormai mettermi lì fare video e audio montaggio sigla carica video eh non ci riuscirò quasi mai più cioè non riesco a immaginare più me stesso seduto lì a fare video come al solito ma posso creare delle semi finte live e caricarle dopo facendo dei video comunque ordinati perché a me piace comunque fare delle serie ordinate e non completiamo il gioco parte 1 completiamo il gioco parte 2 facendo cose a caso e per di più 4 ore di video dove gioco 1 ora e nelle altre 3 commento quindi no magari farò delle live nelle quali tipo non rispondo neanche i commenti ma non per cattiveria perché giusto come ne so la tv dico domenica alle 9 che non sarà domenica alle 9 però vabbè domenica alle 9 faccio 2 ore di una cosa no non faccio 2 ore di una cosa farò mezz'ora di una cosa poi subito dopo altra mezz'ora di un'altra cosa non so come farò però il concetto è che probabilmente comincerò a fare live in stile tv quindi faccio video che saranno sicuramente subito caricati su youtube senza passare dalla fase montaggio guardate quanto sono pigro però purtroppo se ho poco tempo e volete dei video è così che posso fare poi sono il primo a volere delle live nelle quali posso commentare con voi ma queste mi serve tanto tempo la serata dove il giorno dopo non devo fare nulla e posso passare un'intera nottata a scrivervi e a chiacchierare e magari non mi metto neanche a giocare a niente cioè proprio facciamo noi dei giochi tipo dai ditemi una citazione io devo indovinarla oppure ditemi tutti delle parole con B e voi mi direte sicuramente bibliotecario proprio quindi non lo so porterò giochi lego vecchi che devo completare tanto ne ho un sacco quindi perché devo spendere soldi per quelli nuovi nego city undercover è l'unico per il quale spenderei 5 euro non di più al momento come un mese fa e come forse anche due mesi fa non mi ricordo quando è uscito riesco a trovarlo al massimo a 10 se proprio proprio mi gira a Natale il luzzolo me lo prendo anche a 10 però se scendesse a 5 sarebbe bello e ovviamente lo potrei giocare assieme a voi per così dire end of fate 2 end of fate 2 è un gioco che attendo da un anno e mezzo costa 30 euro quindi comunque onesto ma per il solito discorso cioè non posso spendere questi soldi senza contare che poi ho anche promesso a Edoardo di giocare con lui per la prima volta end of fate 2 che non so se porterò in live cioè potrei portarlo a volte su youtube però non come serie cioè tipo stasera ho voglia di fare end of fate 2 però ho anche voglia di fare un video quindi beccatevi end of fate 2 tomo cioè cose così però non farò una serie anche su end of fate 2 probabilmente in ogni caso Edoardo vive in Germania probabilmente vedrò Edoardo a Natale ma non so se a Natale riusciremo a giocare a questo cioè è un rigiro molto strano quindi non so quando riuscirò a giocarci per la prima volta fatto sta che a maggior ragione io ho dei soldi per spendere da spendere su end of fate 2 non ce li ho quindi non lo farò bene fine del video ciao direi che ho finito tutto quanto non c'è altro da dire no a parte che sono morto grazie a tutti grazie a tutti